Quindi entro all'interno di Beyoncé e sono qua, dentro Beyoncé. Adesso che cosa faccio? Beh, adesso siccome io ho creato un mio ambiente, andrò nel mio ambiente Alberto Pian e nella mood board della didattica vediamo che cosa ho trovato. Ho trovato un paio di cose per voi. Per esempio, ho trovato questo, ABC Animal. L'ho salvato qua. Faccio clic e vediamo di che cosa si tratta. È una cosa interessante perché è un alfabeto rappresentato attraverso gli animali. Sono dei bellissimi disegni che io posso utilizzare nelle mie slide come insegnante perché non è detto che debba saperli fare io. Però se ho pazienza li posso ricalcare, per esempio. Ecco, anche queste figure sono interessanti, queste figure da utilizzare. Allora, vediamo che cosa ci propone. Questa si chiama Amélie Dubois. Amélie Dubois è sicuramente una illustratrice. Guardate che bei disegni. Allora, Amélie Dubois ci dice che, ai ai ai, ci dice copyright, nessun uso consentito senza il permesso esplicito del proprietario. Ma niente di male, non c'è nessun problema perché scriviamo ad Amélie Dubois. E scriviamo, car Amélie Dubois, sono un insegnante. Devo fare delle lezioni ai miei studenti, ma posso metterla, usarla per mostrare i miei studenti all'interno delle lezioni? Quindi in realtà voi farete così. Prima scaricherete queste immagini, preparate la vostra lezioncina con le immagini e poi la mandate alla Dubois. E vedrete che la Dubois vi dirà, ma figurati, ma puoi utilizzarla finché vuoi. Cioè, un vero artista non è, non vuole solo essere fregato. Cioè, non vuole che degli editori o delle persone così che lavorano in qualche studio, eccetera, si appropriino di opere che non sono loro. Che è una pratica che purtroppo viene utilizzata. Quindi non avrà nessun problema la Dubois a darvi la possibilità di utilizzarle.